Ho scelto di vaccinarmi perché è importante ed è importante che passi il messaggio perché questa è una pandemia, mi è tutto questo virus, milioni di vittime e quindi è giusto, è doveroso, è coscienzioso, è da persone responsabili. Si chiama Paola Orlandi, biologo ospedaliera originaria della Lunigiana, la prima vaccinata all'ospedale di Cisanello a Pisa contro il Covid, la prima di 50 operatori sanitari estratti a sorte tra coloro che si erano prenotati. Alla vaccin dei Pisano erano presenti anche l'assessore regionale Alessandra Nardini e il presidente del consiglio toscano Antonio Mazzeo con i vertici dell'azienda ospedaliera universitaria. Noi abbiamo messo in campo una struttura che è questa poi l'edificio 3 con 15 ambulatori che vaccineranno contestualmente tutti i soggetti che si sono prenotati all'interno della piattaforma. È stato il sindaco di Livorno Luca Salvetti invece a commentare su Facebook le immagini delle prime vaccinazioni all'ospedale Cittadino, 45 quelle effettuate su medici e personale sanitario. All'ospedale San Jacopo di Pistoia il primo vaccinato è stato un medico il dottor Gabriele Nenci responsabile del reparto Covid. Al Santo Stefano di Prato i vaccini sono stati somministrati negli ambulatori del centro trasfusionale, al San Giuseppe di Empoli, al poliambulatorio e qui il primo vaccinato è stato Matteo Mistretta, 29enne, infermiere del pronto soccorso. È stato il più bel regalo che mi è arrivato a Natale perché questo vaccino dà speranza sia a noi operatori sanitari che in realtà a tutta la popolazione. Tre donne, un'assistente sanitaria, una dottoressa, un'infermiera hanno invece aperto la campagna della vaccinazione più importante della storia recente all'ospedale di Arezzo. La prima è stata Martina Erdas, 32 anni, che si è detta onorata di fare il vaccino. Spero, ha aggiunto, che lo facciano tutti.